Con Stefano Leone, protagonista di una nuova iniziativa, Noi San Basso, in cosa consiste? Noi San Basso mostra storica fotografica internazionale che ha inizio oggi, il 2 agosto, e si potrà attraverso una serie di eventi fino al 5 dicembre. È un tentativo di riverberare l'attenzione sulla figura del Santo Patrono in relazione ad aspetti storici, religiosi, sociali, culturali, per addivenire fino, come ho detto, al 5 dicembre, a una mostra fotografica di artisti e fotografi internazionali di tutto il mondo che porteranno a termine le loro foto inerenti, la rappresentanza del Santo Patrono nella loro città, nei loro continenti, nella loro dimensione non solo territoriale, ma, se vogliamo, anche spirituale. Perché la figura del Santo, oltre a rilevarla qui a Termolo? Perché al di là dell'aspetto religioso, che è comunque pieno e completo, i santi sono personalità da caratteristiche umane, spirituali, dalle quali, secondo me, dobbiamo prendere esempio, al di là dell'aspetto, ripeto, di affinità, di appartenenza religiosa o di fede. E ripartendo dallo spirito di San Passo, alcune immagini, tra virgolette, saranno portate in precisione, saranno date alle barche nel giorno 3 che le custodiranno e in qualche modo ci accompagneranno, sempre seguendo la luce di questo satellite naturale che è il nostro Patrono San Basso, insieme a Santimoteo.